Il Festival di Roma quest'anno apre le porte ad una sezione speciale, annunciata da New Cinema Network, il mercato di coproduzione della Kermess. Si tratta della sezione Great Beauties, che ha lo scopo di promuovere l'Italia come partner ideale nella produzione di film internazionali, presentando otto progetti che rinforzano l'importanza e il ruolo centrale dell'Italia sia come luogo ideale per le location, sia come supporto per la produzione e per i fondi. Un compito arduo che non rappresenta però di certo una sfida per Joe Dante, regista statunitense che in occasione di questa sezione speciale ha annunciato la realizzazione di Ombra Amore, una rivisitazione dell'ormai inflazionatissimo capolavoro di William Shakespeare, Romeo e Giulietta. Questo adattamento però potrebbe stupirvi, la pellicola infatti come protagonisti vampiri e lupi mannari, ed è ambientata in una Roma oscura e underground nel bel mezzo della crisi economica che il nostro paese sta affrontando negli ultimi anni. La location del film sarà quindi sul suolo italico, dettaglio che ha reso entusiasta il regista. Roma ha infatti dichiarato Dante in una nota stampa, la città eterna di dei e mostri, dove una lupa allattò Romolo e Remo, e cosa potrebbe essere più eterno di un non morto?